Castiglione della Pescaia, una bellissima manifestazione, oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia. Che cosa significano questi eventi per un comune come Castiglione della Pescaia? Significano continuare a fortificare quel grande connubio che c'è tra Castiglione e lo sport. Ormai da 8 anni noi siamo Comune Europeo dello Sport e facciamo 100 eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale nei mesi pre-estivi e nei mesi post-estivi. Questa manifestazione per noi è molto importante perché porta una nuova ventata di sport diverso da quello che fino ad oggi abbiamo fatto e quindi è importante per questo motivo. Noi siamo molto orgogliosi e grati all'Associazione per essere venuti a Castiglione e rinnoviamo l'invito per i prossimi anni e all'Associazione Albergatori per averlo stimolato questo invito. Manifestazione riuscitissima, oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia, un'accoglienza eccellente da parte del Comune di Castiglione della Pescaia e di tutti i suoi cittadini. Che cosa vuoi dire di questa manifestazione? Cosa vuoi mettere in evidenza? Era una scommessa ed è stata vinta ampiamente. Mi fa estremamente piacere la vicinanza dell'amministrazione, cosa che davo per scontata peraltro perché si è sempre dimostrata vicina a questo tipo di manifestazioni. È un turismo che mi piace, è un modo di fare turismo di nicchia, fatto di numeri importanti e in bassa stagione perché noi dobbiamo sempre avere il faro della stagionalità. Un evento fatto a luglio ha un peso specifico inferiore rispetto ad un evento, per esempio, fatto la seconda domenica di maggio. Poi consentitemi anche, ho un particolare amore verso questo gioco e mi riporta bambino. Noi nati negli anni 60-70 abbiamo proprio tutti dei ricordi importanti legati a questo gioco e mi fa piacere riportarlo alla luce e spero che qualche ragazzo, e questo potrebbe essere un obiettivo, di far conoscere questo splendido gioco alle nuove leve. Grazie mille Paolo, davvero per tutto, grazie di cuore. Grazie a voi, è stata una piacevole sorpresa questa organizzazione, complimenti a voi, davvero. A 2023 di subito tradizionale a Cassione della Pescaia, una manifestazione veramente molto riuscita, 200 partecipanti provenienti da tutta Italia, un'accoglienza meravigliosa da parte della cittadina. Che cosa vogliamo mettere in risalto in merito a questo evento sportivo? Allora, intanto metto in risalto il fatto che siamo tornati a giocare dopo la pandemia. Questa è una scommessa. La Coppa Italia, sia di calciotavolo che di subito tradizionale, non veniva giocata dal 2019. Scommessa vinta, ancora una volta, con i numeri che abbiamo appena detto. E il contesto, spettacolare. Devo dire, la parola che mi viene più facile da dire è spettacolare. Tra l'altro, poco fa parlavamo col Sindaco appunto di questa simbiosi. Loro sono molto portati all'accoglienza, ce ne siamo accorti. Quindi è stata la disponibilità totale dell'amministrazione comunale, del Sindaco, ma anche della famosa ACOT, che è l'associazione dell'accoglienza turistica castiglionese, che ci ha dato proprio la massima e totale disponibilità. Ci ha permesso di portare a termine questo evento spettacolare, in questa location che si presta benissimo al nostro gioco. E, come tu dicevi prima, anche il contorno, cioè il contorno veramente castiglione, bellissimo, molto ospitale, si presta veramente ad accogliere non solo noi, ma anche eventualmente gli accompagnatori, quindi le famiglie che vengono a seguito degli atleti. Si spera, speriamo, ma dai primi accenni pare che la cosa possa, anche in un futuro immediato, essere replicata, o per lo stesso evento, o anche per altri eventi.